L'indulto cosa ne pensa? È una soluzione tirare fuori dai carceri persone perché le carceri sono strapiene? Non converrebbe costruire altre strutture per mettere condizioni di vita più decenti e detenuti? L'indulto è una legge dello Stato, è previsto dalla legislazione vigente e è stato approvato a larghissima maggioranza del Parlamento, è stato dimostrato che gli effetti sono stati positivi, molte di queste persone non sono più tornate a delinquere. Quindi il tema andrebbe visto senza quella campagna esterica promossa dalla destra che si è opposta con tutte le forze e per la verità anche di Pietro e qui mi consenta di notare la contraddizione perché il PD ha fatto l'alleanza con un partito che ha organizzato le manifestazioni davanti alla Camera. Quando io sento Veltroni che dice nelle piazze noi non dovremmo più fare riunioni con Di Liberto, Pecoraro, Scagni e Boselli, ma i problemi della coalizione, dell'ex coalizione centro-sinistra sono derivati quasi sempre o dall'attuale PD, dall'interno dell'attuale PD o addirittura dall'alleato di Pietro. Quindi gli effetti dell'indulto non sono stati così negativi come sono stati descritti dalla stampa o dalla propaganda della destra che investe sulla paura tra l'altro da questo punto di vista su sicurezza e criminalità. Certo è che ci vuole certezza della pena e allora ci vogliono processi rapidi, veloci, certezza della pena. Bisogna perseguire anche quei reati che molto spesso vedono le stesse persone che le subiscono rinunciare alla denuncia, il furto del telefonino, il furto della bicicletta, il furto del motorino per esempio. Come pensa di affrontare il problema degli affitti in nero degli studenti fuori sede? A Roma è un problema drammatico, ci sono gli affitti più alti d'Europa, forse addirittura del mondo occidentale, i prezzi delle case sono sicuramente i più alti del mondo occidentale. Questo è dovuto al fatto che da tempo le amministrazioni comunali, Rutelli prima, Veltroni poi, hanno rinunciato a costruire con l'edilizia popolare. Quando c'erano i socialisti in giunta si facevano 300 appartamenti di edilizia popolare ogni 1000, 300 convenzionati e 300 privati. E lì il livello degli affitti e dei prezzi delle case era allineato al resto dell'Italia. Si è smesso di costruire edilizia popolare, si è svenduto il patrimonio pubblico e allora i prezzi sono schizzati, compresa la speculazione degli affitti in nero agli studenti. Allora bisogna fare intervenire la Guardia di Finanza e bisogna promuovere i comportamenti virtuosi, per esempio utilizzando la leva fiscale per chi affitta le case e abbassando drasticamente le tasse a chi affitta le case a prezzi ragionevoli. In tempo di campagna elettorale il tema del contrasto alla criminalità organizzata tende sempre a scomparire. Cosa farà il suo schieramento per il contrasto di un'emergenza nazionale? Assolutamente sì, ci sono intere regioni che non sono sotto il controllo dello Stato e questo fa sì che quelle regioni siano condannate perennemente ad una sostanziale mancanza di libertà democratica, perché questo poi significa un potere diverso dal potere dello Stato e sono regioni che sono condannate ad una perenne arretratezza, perché l'imprenditore che vuole andare a investire lì se non ha la sicurezza dell'investimento, se sa che viene ricattato per il pizzo non lo farà, né imprenditore italiano né imprenditore estero. E allora la lotta alla mafia, oltre che un dovere di giustizia e di libertà, diventa assai urgente proprio per garantire a quelle regioni, oltre alle libertà individuali, quella possibilità di modernità e di sviluppo che finora sono mancate. Quindi io direi che doveva essere un tema centrale della campagna elettorale, perché purtroppo una delle ragioni per cui l'Italia è conosciuta nel mondo è proprio la presenza della criminalità organizzata mafiosa.